leggi l'articolo completo nel link in descrizione una sorpresa ti aspetta il nome utente poste pay è uno degli elementi indispensabili per accedere al sito internet di poste italiane e poter così interagire con il proprio conto online insieme alla password infatti permette di accedere alla propria pagina personale della piattaforma poste pay punto it per eseguire pagamenti bonifici ricariche oltre che controllare i movimenti e il saldo del proprio conto il nome utente poste pay o username è comunque composto generalmente da nome e cognome a cui possono seguire alcuni numeri preceduti dalla barretta l'ideale sarebbe fare uno screenshot oppure una stampa della pagina in cui viene riportato in fase di registrazione per essere sicuro di non trovarti mai impossibilitato a effettuare un'operazione perché hai dimenticato qual è il nome utente da non confondere con il codice di attivazione che ti verrà inviato esclusivamente per eseguire il primo accesso alla piattaforma questo codice infatti che poste italiane provvederà a mandarti all'indirizzo email da te fornito servirà per permetterti l'abilitazione utente dovrai cliccare sul link ricevuto nella mail per aprire la piattaforma e iniziare così a eseguire le tue operazioni online se l'utilizzo del personal computer è riservato solo a te potrai anche decidere di salvare questi dati di accesso e non doverli poi inserire ogni volta ma cosa accade se li hai inavvertitamente cancellati e hai dimenticato il nome utente per recuperarlo potrai accedere alla piattaforma di poste italiane e scegliere l'opzione recupera credenziali nel menu a tendina che compare seleziona recupero del nome utente e immetti il tuo codice fiscale a questo punto dovrai semplicemente dimostrare di non essere un robot selezionando l'apposita casella fatto questo attendi un sms che ti verrà inviato al numero di cellulare che ha indicato in fase di registrazione in alternativa alla procedura online di recupero nome utente potrai scegliere di chiamare il numero verde 80 31 60 che poste italiane ha riservato ai propri clienti il servizio è attivo dalle ore 8 alle ore 20 da lunedì al sabato e ti permetterà di parlare con un operatore che ti guiderà nella procedura di recupero iscriviti al canale e visita il sito carteprepagate.org per scoprire le migliori carte del momento